Belli amici Marco Drum Games Tutorial! Finalmente PlayStation hanno aggiunto Discord, tasto PlayStation, andiamo su Gamebase dove vediamo i nostri amici, dove possiamo entrare nel party privato o aperto, dove possiamo mandare i messaggi ed eccolo qua, Discord! Possiamo entrare nel nostro serverino! Entra! Eccolo qui, siamo dentro nella chat vocale di Discord di Marco Drum Games! Quindi, amici e amiche, da oggi è possibile entrare direttamente in Discord e poi facciamo abbandonato se vogliamo! Quindi, PlayStation, Discord! Ciao amici, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Marco Drum Games per tanti tutorial, tanti giochi, tanto divertimento! Ciao! Ciao!